Eccoci di nuovo con la lettura del GGG, capitolo ventunesimo, il piano. Il capo dell'esercito e il capo dell'aviazione stavano sull'attenti davanti al tavolo sul quale la regina aveva fatto colazione. Sofia era sempre seduta sulla sua sedia e il GGG lasso in alto sul suo stravagante trespolo. La regina non impiegò più di cinque minuti per spiegare la situazione ai due militari. «Sentivo che doveva esserci sotto qualcosa di simile, vostra maestà», disse il capo dell'esercito. «Negli ultimi dieci anni abbiamo continuato a ricevere rapporti da quasi tutti i paesi del mondo, in cui si denunciavano misteriose sparizioni in piena notte. Anche l'altro giorno ne abbiamo ricevuto uno da Panama». «Sapore di cappello», esclamò il GGG, «e uno da Wellington in Nuova Zelanda. Sapore di generale inglese», interruppe di nuovo il GGG. «Ma che dice?», chiese il capo dell'aviazione. «Lo lascio indovinare a voi», disse la regina. «Ma che ore sono? Le dieci. Fra otto ore, questi nove brutti assetati di sangue se ne andranno in giro per divorare un altro paio di dozzine di poveri innocenti. Dobbiamo fermarli». «Bombe su quelle canaglie», esclamò il capo dell'aviazione. «Raffica Dimitra!», esclamò il capo dell'esercito. «Io sono contraria all'assassinio», disse la regina. «Ma abbiamo a che fare con assassini», protestò il capo dell'esercito. «Non è un buon motivo per seguire il loro esempio», replicò la regina. «Non è con un torto che dobbiamo far valere il nostro diritto». «Se no, è un diritto storto», commentò il GGG. «Dobbiamo prenderli vivi», disse la regina. «Ma come?», esclamarono insieme i due militari. «Misura una ventina di metri d'oltezza e ci butterebbero giù come birilli». «Aspetta», esclamò il GGG. «Io ho un piano fortissimo», come disse la mosca al naso. «Lasciatelo parlare», disse la regina. «Ogni pomeriggio tutti quei giganti è nella traccia di Orfeo». «Io non capisco una parola di quel che dice questo individuo. Perché non si esprime chiaramente?», salto su il capo dell'esercito. «Vol dire nelle braccia di Orfeo», spiegò Sofia. «Mi pare evidente». «Precisa e mente», approvò il GGG. «Ogni pomeriggio tutti e nove i giganti si stende per terra e rompa come tromboni. Dorme sempre così fondo prima di galoppare e intripparsi di un'altra porzioncina di popollani». «Va bene, e poi?» «Poi i vostri soldati non ha che da arrampicarsi sopra i giganti, mentre loro è nella traccia di Orfeo, e legare mani e piedi con grosse corde e catene infrangibili». «Un'idea brillante», commentò la regina. «Tutto bene», disse il capo dell'esercito. «Ma poi come facciamo a trasportare quei bruti? Non possiamo caricare su camion giganti alti quasi venti metri. Meglio farli fuori sul posto», dico io. Dall'alto del suo trespolo, il GGG si rivolse al capo dell'aviazione. «Voi ha dei culicotteri, no?» chiese. «Ah, diventa anche volgare ora?» esclamò il militare. «Intende dire elicotteri», spiegò Sofia. «E perché non lo dice allora? Certo che abbiamo degli elicotteri». «Dei culicotteri veloci grossi?» «Molto grossi», rispose fieramente il capo dell'aviazione. «Ma nessun elicottero è abbastanza grande da contenere uno di quei giganti». «Tu non deve metterlo dentro», disse il GGG. «Solo legarlo sotto la pancia del vostro culicottero e trasportarlo come un prorettile». «Come cosa?» chiese il capo dell'aviazione. «Un prorettile, un siluro», spiegò Sofia. «È fattibile questo, generale?» chiese la regina. «Beh, fattibile sì», ammise il capo dell'aviazione a malincuore. «Allora, tutti ai vostri posti», ordinò la regina. «Vi serviranno nove elicotteri, uno per gigante». «Dov'è che si trovano esattamente?» chiese al GGG, il capo dell'aviazione. «Immagino che possiate localizzarci il bersaglio sulla carta». «Localizzare?» «Bersaglio?» si stupì il GGG. «Mai sentite prima queste parole! Che farfallucche mi racconta quest'uomo d'aria!» Il viso del capo dell'aviazione prese il colore di una prugna matura. Non era abituato a sentir definire fanfallucche i suoi discorsi. La regina, con il suo abituale tatto e buonsenso, venne in aiuto al gigante. «GGG disse, potete dirci più o meno dove si trova il paese dei giganti?» «Non mi strà!» rispose il GGG. «Neanche sotto tortuga!» «Ma è assurdo!» esclamò il capo dell'esercito. «Ridicolo!» rincarò il capo dell'aviazione. «Voi non deve buttarvi giù così subito!» disse Pacifico il GGG. «Al primo piccolino testacolo voi vi cala i pantaloni!» Il capo dell'esercito, come del resto il capo dell'aviazione, non era abituato a essere insultato. Si fece paonazzo dal furore e gonfiò le gote, fino a farle diventare come due grossi pomodori maturi. «Ma è stà!» gridò. «Abbiamo a che fare con un pazzo! Noi non vogliamo avere niente a che fare con questa follia!» La regina, abituata alle esplosioni di collera dei suoi generali, decise di ignorarlo. «GGG disse, volete essere così gentile da spiegare a questi due caratterini cosa conviene esattamente fare?» «Con piacere, mistrà! E ora voi mi ascolta bene, voi due marmittoni!» I due sussultarono, ma non dissero molto. «Io non ho la più vaga idea di dove si trova il paese dei giganti, ma io posso galoppare fin là. Io galoppa davanti e di dietro dal paese dei giganti ogni notte, per soffiare i sogni nelle camere dei bambini. Così io conosce benissimo la strada. Allora tutto quello che voi deve fare è... Voi manda nove grandi culicotteri in aria e loro mi seguono mentre io galoppa!» «E quanto tempo ci vorrà?» chiese la regina. «Se noi si parte subito e si arriva proprio quando il gigante sta facendo la sua sesta!» «Perfetto!» approvò la regina. Poi rivolgendosi ai suoi generali, aggiunse. «Preparatevi immediatamente a partire!» «Sarà tutto giusto, vostra maestà, ma che cosa ne faremo di quelle canaglie quando le avremo portate qui?» chiese il capo dell'esercito, piuttosto scosso dagli avvenimenti. «Non preoccupatevi», rispose la regina. «Ci penseremo a suo tempo. E ora, animo, togliete le tende!» «Se a vostra maestà non dispiace», disse Sofia, «vorrei partecipare all'impresa con il GGG per tenergli compagnia». «E dove ti metterai?» «Per il suo orecchio!» «Facciamoglielo vedere, GGG!» Il GGG discese dal suo imponente seggio, prese Sofia tra le dita, girò lo smisurato orecchio destro fino a renderlo parallelo al suolo e vi sistemò Sofia con delicatezza. Il capo dell'esercito e il suo collega dell'aviazione li fissavano inebetiti. La regina sorrise. «Siete davvero un gigante meraviglioso», disse al GGG. «Mistra?» fece il GGG. «Io ho una cosa specialissima da chiedere a voi». «Di che si tratta? Può io trasportare nei culicotteri la mia collezione di sogni? Io ho ammesso anni e anni per raccoglierli e non può pensare di perderli». «Ma certo», assicurò la regina, «e ora buon viaggio e noi ci ritroviamo la prossima settimana per leggere il ventiduesimo capitolo». «I Reid»